Cominciò ad essere un po' stanco, Ben. Continua a giocare, vedrai come ti addormenti. Mi hai chiamato Ben. Che strano, per un secondo mi hai fatto ricordare mio fratello Ben. Ho solo pochi minuti. Non hai più saputo niente di lui da allora? Linda non te l'ha detto? Un paio di settimane fa abbiamo avuto una lettera di sua moglie dall'Africa. È morto. Questa è la famosa Brooklyn, forse si stavi con i suoi sogni. No, aveva sette figli, aveva avuto l'occasione di poter andare con lui una volta. Devo prendere il treno, diverse proprietà che devo controllare in Alaska. Certo, certo, se fossi andato con lui in Alaska allora sarebbe stata tutta un'altra cosa. Ma ma, saresti molto assiderato, ragione. Ma di che cosa stai parlando? Ci sono un sacco di possibilità in Alaska, mi sorprende che tu non ci sia andato. Ma certo, un sacco. Quello era uno dei pochi uomini che ci sapeva fare. Chi? Come state voi? Bene. Bene. Ti va bene stasera, eh? Mamma abita con te. No, no, è morta tanto tempo fa. Chi? Peccato, era una grandonna la mamma. Eh? L'avrei rivista volentieri. Chi è morto? Di nostro padre è notizia. Come sarebbe a dire chi è morto? Ma di che cosa stai parlando? Oh, piuttosto, di cosa stai parlando? William, sono le otto e mezzo. Questo qui è mio. No, 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 l'ho buttato io. Se non sai tenere le carte in mano, lascia la mia. Io lascio che... Basta, basta, ho chiuso. Quando è morta la mamma? Tanto tempo fa. È un secolo che ti conosco e ancora non sai giocare a casa. Eh, va bene. La prossima volta porto un mazzo con cinque anni. Io non mi presto a questo giochetto. Ti dovresti vergognare. Ah, sì? Sì. Deplicente. Grazie.